Ciao a tutti da Green Food for Gaia! Oggi andiamo a preparare il seitan e ci servirà un chilo e mezzo di farina o manitoba o di kamut e un litro d'acqua Andiamo ad aggiungere l'acqua e iniziamo a mescolare L'acqua potete anche aggiungerla tutta in una volta non c'è alcun problema l'importante è mescolare bene l'impasto più l'impasto verrà mescolato e più si svilupperà la maglia glutinica Come vedete adesso inizia a diventare un po' più duro e lo andiamo a impastare con le mani Una volta fatto l'impasto lo faremo riposare una ventina di minuti e poi procediamo al lavaggio Il lavaggio consiste nel mettere il seitan dentro all'acqua e sciacquare via l'amido Come vedete l'acqua diventerà bianca e ogni volta l'acqua andrà cambiata o direttamente messo sotto al lavandino Il risultato ovviamente sarà un panetto molto più piccolo e si deve presentare in forma elastica e sarà così pronto per fare qualunque tipo di ricetta dagli arrosti al macinato Bene, la ricetta è finita spero vi pioggia e alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!